Si chiude con un pareggio per 1-1 con il Lucera, il debutto della Soccer Trani sul prato dello stadio comunale Nicola Lapi, riaperto al pubblico a oltre un anno di distanza dall'ultima partita ufficiale. Succede tutto nel quarto d'ora finale, al vantaggio ospite con Innocent replica Pion Barolo, in un match chiuso tra gli applausi di 1500 presenti sugli spalti. Non cambia la condizione di classifica delle due squadre, a braccetto in quinta posizione con 18 punti dopo 11 giornate del campionato di promozione pugliese. Emozioni prima del fischio d'inizio, la consegna della targa a Nicola Lapi e familiari dell'ex consigliere comunale scomparso più di 5 anni fa è seguita dalla sfilata del settore giovanile della Soccer. Soccer che si era dal primo minuto i nuovi arrivati Campanella e Dentamaro. Partono forti gli ospiti, con Di Canio che al settimo minuto si vide annullare un gol per fuorigioco dopo aver trafitto Pinnelli con un piattone a giro. Al decimo minuto arriva la prima occasione della partita per i Tranesi, un lancio lungo di forgione per Terrone, svario nel portiere Lucerino e pallone che per bocca non finisce in porta. Padroni di casa che prendono il pallino del gioco in mano e alla mezz'ora vanno vicinissimi al vantaggio. Schema su corner, Yelazel si libera per calciare verso la porta e dalla distanza compisce in pieno la traversa. Si va negli spoliatoi senza reti ma con la Soccer in palla. Pellicola che non cambia inizio ripresa, Yelazel ci prova su punizione ma l'esecuzione imprecisa e termina sopra la traversa. Al venticinquesimo ancora pericolosa la Soccer, Pugliese arrivato in settimane subentrato scarica fuori aria per Precchiazzi che di esterno sfira la porta. Poco dopo è il numero 19 bianco azzurro che tenta l'Euro goal con una conclusione al volo da fuori aria, pallone di poco sopra la traversa. Gol sbagliati, gol subito, così a un quarto d'ora dalla fine arriva il gol che porta in vantaggio agli ospiti. Contatto dubbio in area di rigore Lucerina, ripartenza degli ospiti con Innocent che a tu per tu con Pinnelli non sbaglia e con un pallonetto porta avanti i suoi. 0-1 al 75esimo. La reazione della Soccer non si fa però attendere, ci prova l'altro nuovo arrivato Nannola di testa su un cross di Dentamaro, pallone però al lato. Tre minuti dopo Yelazel si accentra e calcia in porta, Sciretta la fa sua senza problemi. Nei minuti di recupero succede di tutto con Eitrani proteso in avanti alla ricerca del pareggio, al 94esimo e Piombarola ad approfittare di una sbavatura della difesa foggiana, Tapin a porta vuota, 1-1 e pubblico di casa che festeggia il primo gol all'Api. Nel finale i ragazzi di Mr. Masha sfiorano anche il sorpasso, Precchiazzi la spunta nell'area piccola, miracoloso e sciretta. Poi ci prova ancora Yelazel con un colpo di testa sul fondo però. Il punteggio non cambia, 1-1 al fischio finale, Soccer chiamata domenica a sfidare a domicilio in Real City, reduce dalla netta vittoria per 11-0 in casa della morfetta sportiva, Lucera che attenderà nel suo stadio Santeramo.